Eccoci qua con Talla Suare al termine di Follonica, Gavorrano Poggi Bonzi, vinta 2-0 dai Bianco-Rosso-Blu, grande protagonista della partita di oggi, autore di un gol, il secondo consecutivo. Talla Suare, che partita è stata? Iniziamo descrivendo il gol e poi la prestazione della squadra. Non è stata una partita facile, sapevamo che incontravamo una squadra forte, messa bene in campo, ma noi con il lavoro che abbiamo fatto questa settimana, come ci ha detto il mister, di avere pazienza di girare palla, abbiamo trovato il primo gol sul cross di Pino, che è stato un gran cross e il raddoppio di Mac. Settimana importante da parte tua, hai sfruttato al massimo le occasioni, è arrivato anche il rinnovo per un'altra stagione, si sta bene qua a Follonica, Gavorrano? Sì, sì, è una società importante, una società seria che non ci fa mancare nulla, che ci aiuta sia dentro il campo che fuori il campo. Anche quest'anno hai iniziato alla grande, lo scorso anno il pubblico ti aveva acclamato, quest'anno sei sempre uno dei più acclamati, possiamo dirlo. Ti fa piacere questa cosa, il pubblico ci sostiene sempre, lo ricordiamo. Sì, sì, il pubblico è veramente bello, è bello. È bello stare qua, ma il prossimo turno avremo mercoledì Livorno in Coppa Italia, sarà un'altra gara importante. Noi sì, già stiamo pensando a mercoledì, come dice il mister. Noi cerchiamo sempre di lavorare bene in settimana, perché lavoriamo bene, con veramente un allenatore che ci sta dando una grossa mano. Ci sta dando una mano, poi inizialmente, a inizio stagione, sembrava tu potessi giocare di punta, invece stai giocando con continuità come esterno, è un ruolo che ti si addice, che ti piace. Sì, mi piace, ma io cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra. Cerco sempre di dare il massimo dove mi mettono, cerco sempre di tirare fuori il meglio. E lo dimostri ogni settimana che passa. Grazie mille a Tallasuare e buona settimana. Grazie.